Molte conferme e qualche novità. Nella delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile che ha stanziato oltre 6 miliardi di euro per opere infrastrutturali al sud, un miliardo e 700 milioni sono destinati alla Campania. Di questi 400 milioni sono per Napoli, soldi per la linea 10 della metropolitana da Piazza di Vittoria a Piazza Carlo III, oltre all'acquisto di nuovi treni e al prolungamento della tratta verso Bagnoli e Posillipo, risorse anche per completare la Fondovalle Tammaro, l'asse attrezzato Paolisi-Piano Dardine e la strada di collegamento tra la Trenta e il Vallo di Lauro, insieme alla terza corsia del raccordo Avellino-Salerno. Un piano ambizioso ma è fondamentale spendere bene le risorse. Come sempre poi è l'attuazione degli investimenti che comporta problemi. Ecco perché insistiamo molto anche noi in un confronto anche con la stessa regione affinché ci sia una cabina di regia, un monitoraggio ovviamente con le organizzazioni datoriali, con le forze del lavoro, le organizzazioni sindacali che possa aiutare una necessità di poi rendere operativi questi investimenti. Il ministro Mara Garfagna ha ricordato che nel piano sono previsti anche 200 milioni per il contratto di sviluppo della terra dei fuochi. Per i sindacati la priorità è investire su giovani e occupazione femminile. Bisogna recuperare un gap territoriale molto significativo dei progetti che possano recuperare da un lato fenomeni di occupazione e dall'altro soprattutto un'occupazione non solo giovanile ma femminile.